Sempre per operazione, tu vuoi fare l'americano, sto facendo il giro d'Italia, scusate, di San Francisco in bici? Ci ho visto, mi sto spingando, ho fatto una chilometri sto viaggio, no, alla fine, è più buono, ecco il Golden Gate, wow, eccolo qua, c'è la leppiolina in barbatana, quindi abbiamo beccato la giurata, hi, ho fatto male, lo voglio, poverazzo, non so, qua sono molto educato, quando si fanno male dicono sempre, ah, sono molto male, va bene, comunque, dopo si fa a chiudere quanto la pallina esca, ehi, la zia, è una schiaccia questa, va bene, noi andiamo al Golden Gate, gli facciamo due fotografici, ciao ragazzi!